Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentornati alla vostra serie di Fallout New Vegas con me Avanti, dai, cominciamo, mettiamo le cuffie come sempre Quindi dobbiamo andare a questo bunker, però prima dobbiamo conoscere Caesar Ok, andiamo a conoscere Caesar Ok, il viaggio durerà poche ore Bella questa inquadratura Ok, devo lasciare le armi Ma questa cosa è obbligatoria? Devo averle con me, un difetto cardiaco congenito Non so perché Caesar potrebbe voler parlare con un ragazzino così fisicamente inferiore Ma concederò questa eccezione Potresti portare il segno di Caesar Ma non provare a condividere la tua medicina con nessuno nel forte Mi tengo le armi Le tue cose Però mi ha tolto il platinum chip, maledetto disgraziato Ma io guardate, per colpa loro all'inizio Quando giocai a Skyrim, che uscì l'anno dopo Vedevo l'impero male Cioè, facevo un'associazione che non ha senso Perché sono due cose completamente diverse Poi invece Studiando Skyrim Mi sono resa conto è tutta un'altra cosa E rispetto ai manto della tempesta Sempre meglio l'impero Sì Ah beh Ed eccolo qua il basta Caesar Buongiorno Finalmente incontro il corriere che ha compiuto così tante gesta in così poco tempo È per questo che ti ho convocato qui, no? Voglio dire Un uomo quasi ti uccide E la tua reazione è seguirlo per tutto il Moave Arrivi alla strip ed entri nel Lucky 38 Come se qualcuno ti avesse lasciato una chiave sotto lo zerbino Ammazzi il capo della tribù dei chairman nel casino di sua proprietà E la passi liscia? Già Poi succede qualcosa ai robot del signor House Una specie di potenziamento militare? Già Ma la ciliegina sulla torta? Il coupe de grasse? Il signor House muore Mentre tu vai a trovarlo al Lucky 38 Già Quando ti metti in testa di fare una cosa ottieni risultati Lo so Questo mi piace Il punto è Sei pronto a metterti al lavoro? Aspetta un attimo Io non è che sono qua per questo Caesar Devo andare al bunker Io tutta questa cosa non mi interessa Come fai a sapere così tanto su di me? Ho occhi e orecchie ovunque Non posso invadere l'Ovest da sordo e cieco, no? Non è stato difficile seguire i tuoi progressi Non hai di certo mantenuto un basso profilo Sta per giungere il momento in cui la mia legione assalterà la grande diga E invaderà l'Ovest Prima che questo accada Voglio che il signor House scompaia dalla circolazione Non solo l'uomo che hai ucciso Ma anche tutto ciò che ha lasciato dietro di sé La sua eredità Cioè tutto quello che Che sto facendo io Però vabbè chiediamogli cosa devo fare Giù dalla collina Al limite occidentale del campo Si trova un vecchio edificio È lì che il forte fu preso nel 2277 All'interno dell'edificio si trova una botola Dentro alla quale ci sono due porte d'acciaio Che portano il sigillo del casino Lucky 38 Lo stesso sigillo si trova sul platinum chip che portavi Non è interessante? Cosa ancora più interessante C'è una fessura della stessa dimensione del chip Sulla console che apre la botola Sai cosa penso? Penso che il platinum chip apra quelle porte Che non possono essere forzate con una leva Ne perforate o fatte saltare in aria Tutti i metodi che ho provato E cosa c'è oltre quelle porte? Ma io che cazzo ne so? Scusa So che l'ha costruita il signor house Probabilmente è una specie di arma che non può attivare a distanza Ok praticamente immagino che stia parlando dello stesso bunker dove devo andare io E una volta che sarò dentro Voglio che tu distrugga qualsiasi cosa trovi là dentro Poi devi tornare qui e raccontarmi tutto Allora vai all'edificio e porta con te questo fottuto platinum chip I miei legionari ti incontreranno là Con le tue armi e attrezzature Addio Grazie amico sei simpaticissimo Va bene Caesar Facciamo questa cosa per te Facciamo questa cosa per te Sì sì io vado lì Allora Andiamo Al bunker Poi uno dice ma perché non Perché non ci va lui per dire Ad aprire sto bunker Cioè mi ha preso il platinum chip no Ha visto che io sono una persona super capace e incredibile Che ho ingannato il coso house Ho ingannato questo quest'altro Però diciamo vabbè vacci tu Ma una volta che mi hai preso il chip Parlo tu stesso Comunque mandacci qualcuno di estremamente Ho ucciso io il vulpe sinculta che era il suo braccio destro No È un po' leggero in questo caso Il nostro caro come si chiama Ciao Caesar ha permesso che le tue armi ti siano restituite Mentre gli presterai servizio Bene Caesar ha riposto molta fiducia in te Cerca di meritartela Ok E qua Lucky 38 Entriamo È un volt signor Radiazioni 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 a go go Benvenuto signor house Registro di stato Mostrati Eventi più recenti 14 novembre 79 Rilevata perdita di radiazione Ce ne siamo accorti Robot manutentore spedito Rilevata sovracorrente Robot manutentore non risponde Spostamento a livello di allerta Sicurezza 1 Protectron attivati Torrette attivate Sentribot Oh il send La sentinella è fortissima In stand by E cominciamo raga Madonna mia ma Veronica è fortissima Con un pugno ha ammazzato Il Protectron Ragazzi troppe Troppe radiazioni Però come la risolviamo Sta situazione Terminale Protectron No No Torrette Va bene dai Breve Aled Quindi Esatto Midna Allora Annulla allarme di sicurezza Ok Aspettate Quanto ho di Scienza 62 Quindi se Se leggo Lo posso fare Bollettino Programmatore Eh Disattiviamo anche Protectron Television A few inches later Cristo santo Madonna mia Per 4 Protectron Che potevo ammazzare Benissimo Mi sono presa Un sacco di radiazioni Gribbio Buongiorno Buongiorno Spostati per favore Spostati per favore Le torrette Staccata Ok Questo è per Distruggere Questa cosa Noi invece Non dobbiamo Distruggere Dobbiamo Potenziarli Se proprio Vogliamo Andare Fino in fondo Con quest'idea Secondo me È meglio Tenerli Se vogliamo Fare proprio Siamo convinti Di dover fare Vegas Libera I security Dovano essere forti Perché dobbiamo Vedercela poi Con la legione Dobbiamo vedercela Con tutti i nostri nemici Ok L'abbiamo fatto Ragazzi Adesso Caesar Oh mio dio Ragazzi Abbiamo L'esercito Guardate Quanti Adesso Possiamo Conquistare Il mondo Raga Hai compiuto La volontà Di Caesar Ma devo Confiscarti Nuovamente L'attrezzatura Che senso Ho compiuto È convinto Che io Abbia distrutto Come fanno A sapere Cioè Non hanno mandato Tipo qualcuno Con me A verificare Quello che io Facessi Non lo so Sei lì Non ho capito Questa cosa Però eh Sì sì Sono distrutta Hai sentito No le esplosioni Eh ma Ho visto tornare Ma non lo sai Che cosa ho fatto Lassotto Cioè lui dice Vabbè Che cosa doveva fare Lassotto Avrà fatto Quello che doveva fare Cioè penso Che non abbia Nemmeno valutato La possibilità Che io potessi Potenziare I securitron Eh Sono sempre Un po' in ansia Quando vado a parlare Con Caesar Ho sentito La terra tremare Lo prendo Come un segnale Che il lavoro È stato portato A termine Ho letto Il necrologio Del signor House Aveva un'alta Opinione di sé Non è vero? Con il signor House Fuori dai piedi Posso concentrarmi Sulla risoluzione Di alcune Complicazioni Irrisolte In altri luoghi Del Moave Innanzitutto I Boomer Alla base Aeronautica Nellis Una tribù Così chiusa Che scaglia munizioni Contro chiunque Si avvicini Al loro insediamento Voglio che tu Offra loro Un'alleanza Con la legione Sì sì Le mie condizioni Sono semplici Dovranno orientare Le loro armi Contro il lato Della diga Dove si trova L'RNC Quando l'assalterò Sicuro Lo faccio proprio Sicuro Potranno conservare La loro libertà Se ti accorgi Che non sono favorevoli All'offerta Distruggili Ecco Sono curiosa Di una cosa Principalmente Perché la legione Di Cisera È così strana Ho preso la Roma Imperiale Come modello Della legione Proprio perché Era così straniera Così Diversa Avevo visto Cos'era accaduto Ai tentativi Della RNC Di emulare La cultura Dell'America Anteguerra Quante lotte Intestine Quanta corruzione Roma era Un'autocrazia Altamente militarizzata Che riuscì A integrare Efficacemente Le culture straniere Che conquistava Riuscì A fare in modo Che i suoi cittadini Si dedicassero A qualcosa Che andava oltre L'individualità L'idea di Roma Stessa In Roma Ho trovato il modello Di una società Che doveva affrontare Le stesse sfide Del mondo Post apocalittico Una società Che poteva sopravvivere E ci riuscì Una società Che impedì All'umanità Di frantumarsi E autodistruggersi Nel nuovo mondo Stabilendo Una nuova Pax romana Ma Pax Che significa Pax romana Il che significa Una cultura Nazionalista Imperialista Omogenea Che annulla L'identità Di ogni gruppo Conquistato Eh immaginato Stabilità a lungo termine A ogni costo L'individuo Non ha valore Oltre alla propria utilità Per lo stato Aiuto Come strumento Di guerra O produzione Eccolo i brividi Proprio No volevo sapere Come ha ottenuto Il potere lui Ironicamente Anch'io Sono nato Profligate Cittadino Della RNC La mia famiglia Viveva non distante Dal grande cimitero Dopo che i predatori Uccisero mio padre Mia madre Cercò la protezione Dei seguaci Io avevo due anni Trovò lavoro Alla loro biblioteca Cucinava E faceva le pulizie Io imparai a leggere E presto iniziai A seguire i corsi Gratuitamente Esatto Dico Era una cosa Così bella E sensata Che ha fatto il giro E diventato Un'utopia dittatoriale Cioè le vediamo Un po' come Come Caesar Sta gestendo Il suo piccolo governo Vabbè dai Non ho altre domande Addio Però ora gli dico addio Torna quando avrai Notizie dei boomer Sì Vabbè ora mi amano Ragazzi Vabbè ciao Caesar È stato un piacere Ma guarda Ti giuro Fantasco Così tanto Che non tornerò Mai più Adesso sono tutti Con questa facciata Buon divertimento A Vegas Cattiva però Mi fanno un po' Con paura A me Allora Io Se fossi io Davvero Midna Non li avrei mai Potenziati Se eri andata All'RNC Avrei detto Fate voi Io me ne vado A casa Un intero esercito Di security Tron migliorati In attesa Al forte Ottimo eh Allora Per andare avanti Con sta storia Devo per forza Fare questa cosa Qua in realtà Però Nel senso che Posso semplicemente Dire di ignorarli Allora Conosciamo la White Glove Society Intanto Perché è qua vicino Sono tutti Dei gruppi Che dobbiamo Conoscere Almeno conoscere Poi possiamo farci Quello che vogliamo Non è necessario Farci le quest Non è necessario Allearci Da quello che ho capito E da quello E da quello che mi ricordo Allora Facciamo per ordine Andiamo un attimo Alla White Glove Society E approfondiamo La loro conoscenza Allora Scopriamo Che cos'è Questa White Glove Society Chiedo scusa Ma posso chiederle La cortesia Di cedere Le sue armi Non resisto Che modo rozzo Di esprimersi Spiacente Ma devo insistere Che mi ceda Le sue armi Va bene Le mie scuse Più sentite Per il leggero Inconveniente Le assicuro Che tutto Le sarà restituito Alla partenza Ma non possiamo Permetterci Di vedere Gente armata In giro Per l'hotel Non è il tipo Di atmosfera Che intendiamo Creare Prego Buona permanenza Informati C'è la White Glove Society Parlando Con uno Dei suoi Leader Allora Con uno Dei suoi Leader Con uno Dei suoi Leader Salve Ti chiedo Perdono Straniero Ma sto cercando Qualcuno Non hai visto Un giovane Con i capelli Castano scuro E un cappello Bianco Ultimamente No Nessuno Ha un dannato Straccia di notizie Sul mio ragazzo Nemmeno un cavolo Di informazione Non c'è un bramino Mancante Nell'arco Di dodici Ranch Ma sono qui Da un'ora E mio figlio Era fermo qui Ed è appena scomparso Addio Sarò qui Per adesso Non ho tempo Di pensare a te Caro signor Vecchio Ok Allora Andiamo a Cercare qualcuno Disposto a dirci Di più Su questa White Glove Society C'è tanto lusso C'è tanta cosa Ma poca gente Mortimer Come posso Esserle utile Signora Cosa puoi dirmi Sulla tua Organizzazione Caro Il mio Mortimen Mortimer Una domanda Così popolare Penso che sia solo Normale Guardarci e chiedersi Cosa ci rende Così speciali Certamente La White Glove Society Si è appena Fatta conoscere Dal pubblico Ma il nostro nome Si è affermato Da generazioni Siamo sempre Stati così Raffinati Mentirei Se dicessi Di sì Ma ho sempre Sentito Che eravamo Destinati A una posizione Dominante Nella società Moderna E ora Eccoci qui Non tutti Possono indossare Gli abiti Più eleganti E mangiare I cibi Più prelibati Ovviamente Questa È proprio La realtà In cui viviamo Comunque Siamo d'accordo Che le persone Più sofisticate E raffinate Sono le più Meritevoli E questo È il significato Della White Glove Society Vabbè Questi praticamente Giocano A fare finta Che vada Tutto bene Che sono ricchi Si vestono bene Raffilati Mangiano Mentre fuori Il mondo È devastato E ci sono gli schiavi Eccetera eccetera Giusto Questa è la White Glove Society Certo Ah ok Quindi non mi ha dato Da fare un cavolo Mortimer Scopri di più Se la White Glove Stai parlando Con Mergery Questi posti Dove va? Il gourmand Tu sei Mergery? Mergery Come va? Benvenuto all'Ultralax Spero che superi Ogni tua Aspettativa Questo almeno Non sono mascherati Esatto Anche se non è che Possa essere chiamato Lavoro il mio Sono più una custode Che una comune Lavoratrice Più che altro È una passione Non credo Sia un lavoro Noi della White Glove Society Siamo responsabili Di mantenere La bellezza E la classe Dell'Ultralax E come fondatrice Immagino sia compito Mio Decidere come vanno Le cose Va bene Addio Mi ha detto sostanzialmente La stessa cosa Che mi ha detto Lui Cioè non ho scoperto Granché Vabbè Allora Visto che nessuno Mi parla Tanto vale Parlare con quel tizio Che ha perso il figlio Perché è l'unico Qua dentro Che mi affida Una missione Non hai sentito niente Del mio ragazzo No Come mai la tua guardia del corpo Puoi indossare Una Indossare Può avere una pistola Mi hanno preparato Una sistemazione speciale Nell'hotel Se vogliono fare affari Con me Devono giocare Con le mie regole Molte persone Là fuori Se la prendono Per il successo Potrebbero volermi Sferrare un colpo Questo Le fa pensare Due volte Se ci avessi pensato Comunque Avrei fatto in modo Che egli Invece Tenesse d'occhio Il mio ragazzo Allora non sarebbe Successo niente Di tutto ciò Hai perso tuo figlio Il mio ragazzo Ted Era proprio qui Non l'ho lasciato Che per un minuto Gli ho detto Di non muoversi Mentre parlavo Di alcune cose Con la gente Della White Globe Non è mai stato Un tipo da stare fermo In un punto Comunque Ha preso Da sua madre Adesso Ho tutto il personale Fuori A cercarlo Ci andrei anch'io Ma continuo a sperare Che si ripresenti qui Ovviamente Se lo fa Lo picchierò Fino a che la sua pelle Scarna Non si trasformerà In cuoio Per avermi fatto Passare questo Ma ciò non significa Che non sarei contento Di vederlo Allora lui ha perso Suo figlio All'interno di questa società Hai detto qualcosa In merito a un guanto Bianco È così Che sono solite Chiamarsi le persone Che gestiscono Questo posto Sono quelli Tutti vestiti Fantasiosi Con i loro Farfallini E vestiti scintillanti Alcuni Hanno anche Maschere Davvero difficile Fidarsi di gente Così Un paio di loro Mostrano le loro facce Ed è con loro Che faccio affari Non parlo Con nessun altro Di loro Va bene Lascia che ti aiuto A trovare tuo figlio Sarei più che felice Di averti Ormai ingaggerò Chiunque abbia Un paio di gambe E almeno Un occhio buono Ci sarebbero Molti soldi Per te Se riuscirai A riportarmelo In colume E in caso contrario Puoi scommettere Che pagherò Per i nomi Dei figli Di puttana Responsabili Vabbè Ciao Sarò qui Io andrei a parlare Sempre con gli stessi Che mi hanno parlato Prima Perché abbiamo capito Che altri Non mi parlano Come posso Esserle utile Signora Non mi parla Benvenuto All'ultralac Sì Heck Gunders Ah heck è il nome Del tizio Heck Gundersson Ha detto che si trova Qui per parlare Di affari con te Che tipo di affari E di che altro Potremmo parlare Io e il signor Gundersson Discutevamo Del suo bestiame Il fatto che sia venuto qui Ci ha messo in una posizione Piuttosto delicata Capisci Non è che non gli siamo grati Per la sua generosa offerta Ma il nostro cuoco Philippe Ha trasformato La bistecca di Bramino In una vera prelibatezza Che genio Tutti la chiedono Ma una prelibatezza È proprio questo Raffinata Se tutti possono averla Non sarà più una prelibatezza Diventerà un piatto comune E se il gourmand Servisse piatti comuni Non sarebbe più All'altezza dei suoi clienti Ma al pari Di una tavola calda O di un ristorante Per famiglia Quindi Per quanto possiamo Desiderare Che ci siano abbastanza Bistecche per tutti Temo ci siano cose Ben più importanti Da tenere in considerazione Più importanti Cioè Che siano prelibate Questa è la cosa più importante Piuttosto che sfamare Tutti Sto cercando qualcuno Che è scomparso qui Di recente Ancora con questa storia Pensavo che ormai L'argomento fosse chiuso Ho risposto a tutte le domande Di quell'investigatore E ho aiutato come potevo La nostra reputazione Non è proprio senza macchia Ma ormai fa parte del passato Se alcune persone Non riescono a superarle Non è affar mio Per l'ultima volta La White Glove Society Non ha mai consumato Carne umana E mai lo farà È nello statuto Carne umana Cosa c'entra carne umana La White Glove Society Mangiava carne umana Non ti ho già detto Che non facciamo Quel genere di cose Non pratichiamo Il cannibalismo Qui Per nessun motivo Al mondo Certo Non siamo sempre stati La White Glove Society Un tempo Un momento scuro Della nostra storia Eravamo conosciuti Con un altro nome Ma ora è tutto cambiato Abbiamo Represso alcuni istinti Da quando ci siamo sistemati Nella nostra nuova casa Quei giorni Fanno parte del passato Prima si chiamava Human Meat Society Alla aspettate Con chi hai parlato Della scomparsa Un investigatore È venuto qui La scorsa settimana È stato assunto Da un giovane La cui futura moglie È scomparsa Mentre soggiornava qui Ma è chiaro Quello che è successo No? Si sarà fatta Prendere dal panico Ed è scappata E quel giovane sposo Non sapeva Che pesci prendere Poverino Quindi lei sta pensando Che è scomparso Una donna Invece io parlo Di un altro Quindi ci sono più persone Che scompaiono In questo ultralax Sto indagando Su un'altra persona Un uomo È scomparso Di recente Un uomo Ma questo No non può essere Due sparizioni Nel mio hotel Che penserà la gente? Scambierò due parole Con il personale Riguardo alla sicurezza Certo Che queste persone Vengano ritrovate o meno I nostri ospiti Devono sentirsi al sicuro Nelle loro stanze O meno È possibile parlare All'investigatore? Ma certo Credo di sì A meno che Non abbia già fatto Il check out Ho detto al Ma il mt. Mortimer Di offrirgli una stanza Gratuitamente Per tutto il tempo Che vorrà Vedi? La White Glove Society È il ritratto Della gentilezza Anche di fronte Ad accuse Così di cattivo gusto Non abbiamo niente Non abbiamo niente da nascondere La cosa bella È che se hai il tratto cannibale L'opzione te la dà Senza la scritta Bugia davanti Ragazzi Questi sono i dettagli Spettacolari Vabbè gliela dico Dai vediamo che succede In casa Rifaccio il dialogo È tutto ok Anch'io mangio le persone Puoi dirmi la verità Mi fai schifo Come osi dire Una tale meschinità In casa mia Dovrai farti arrestare Era ovvio Ottieni a freno la lingua O puoi scordarti Di parlare ancora con me Eh raga Mi avete fatto Diminuire la La reputazione Si doveva provare Sì sì Sono d'accordo Sono d'accordo Ma io sono la prima Che non resiste E vuole provare A fare le cose Come posso esserle utile Signora Ho sentito parlare Delle vostre cene Di gruppo A base di carne umana Ah sì L'ho sentita anche io Le persone gelose Dicono cose così terribili Mi fanno pena Ah ah Anch'io so cosa vuol dire Essere in astinenza Come posso sostenere La tua causa Bene Allora sai cosa significa Essere discreti In tema di Cibo Forse puoi aiutarmi Mi trovo in difficoltà Ho programmato Una cena squisita Della società Ma c'è un po' Un problema Con la portata principale È un padre potente E capriccioso La portata principale È una persona Sì La persona sbagliata Siamo andati Alla ricerca Di quella giusta Per settimane L'erede Di un impero Mercantile Una sorta Di pecora nera Ha tagliato Ogni legame Con la sua famiglia E lasciato La loro proprietà Per vagabondare Era l'uomo ideale Muscoloso E ricco Ma nessuno Avrebbe sentito La sua mancanza Se fosse sparito Sfortunatamente La trappola Che i miei subalterni Avevano preparato Per lui Non ha funzionato E mentre Fungiva Ha visto Le loro facce Adesso È sospettoso Cosa hai fatto? Ho chiesto Un sostituto Dell'ultimo minuto E hanno rapito Il figlio Del più pericoloso Magnate Dei Bramini Di New Vegas Mentre si trovava In questo hotel Inutile dirlo Questo potrebbe essere Un disastro Se le cose Non tornano a posto E ho ancora bisogno Di qualcuno Di rispettabile Che serva a cena In realtà Non possiamo più Mangiare persone Tuttavia Spero che la giusta Persona E preparazione Possa convincere Marjorie A vedere le cose A modo mio Quindi Marjorie Non lo sa Questo mi Mi sta Confondendo Questa cosa Mi serve un sostituto E ho bisogno Che qualcuno Si occupi Del ragazzo Il sostituto Deve essere In buona salute E in carne Perché le cotolette Fatte con la cartilagine Non vengono bene Ma Con così poco tempo Dovremo ripiegare Sulla nostra prima scelta Carlyle Sinclair Vive in una baracca A nord Perché La carne sia fresca Ci serve vivo Se potessi mandarlo Qui O stenderlo Con questo Nella discarica Vicino A casa sua Noi faremo Il resto E il ragazzo Che ha rapito Il suo nome È Ted Gunderson Sarebbe più semplice Se lo convincessi Che questo È stato tutto Uno sfortunato Equivoco Ma se non ascolta Non possiamo Lasciarlo andare Dovrà essere ucciso E servito Allora Non avremo bisogno Di un sostituto Ma dovresti occuparti Di suo padre Heck Forse Se potessi Spargere Un po' Di sangue Di Ted Attorno Alla camera Ad albergo Di suo padre Lo incastreresti Cioè Per giunto In colpare Il padre Oh mio dio Allora Gli dico Bugia Farò il lavoro Che mi hai proposto Dove trovo Ted Gunderson Cioè Faccio finta Di fare Il suo gioco Splendido Splendido Il ragazzo Si trova Nella cucina Vicino al gourmand Ecco alcune chiavi Che ti permetteranno Di andare da lui L'anziano Gunderson Si trova Nel nostro attico Credo Che faccia parte Della sicurezza A contratto Quindi fai attenzione Se vai lassù E il nostro signor St. Clair Vive al nord Si allontana Raramente da casa E l'ha circondata Di trappole Ma non ho intenzione Di andare ad ammazzare Il tizio Per servirlo a cena Eh Andiamo in cucina Saluti Cosa sta succedendo Così si cucina Ragazzi Se vuoi come Come l'ha cucinata La carne Tutti Tu Cosa credi Di fare Mortimer Mi ha mandato Per spostare Il bambino Pensa che uno Dei suoi Potrebbe tradirlo Prima si fida Di tutti Poi non si fida Di nessuno È un rompicapo Suppongo Che si debba Essere cauti Ora Se qualcosa Va storto Sono problemi Nostri Sì Esatto Quello che dico Sempre io Eccolo Il mio papà Vi ucciderà tutti Bastardi Una volta che scoprirà Quello che mi avete fatto Il bambino Di 42 anni Calma Ti sono venuto Per tirarti fuori Di qui Vi ha mandato Il mio papà Dannazione Per poco Non morivo Là dentro Perché diavolo Ci hai messo Così tanto È solo Un dannato hotel Chi mi ha fatto Questo comunque Mi hanno colpito La testa Prima che dessi Loro un'occhiata Non so se dirglielo Non glielo dico Non glielo dico Va bene D'accordo Sono proprio Dietro di te Non glielo dico Bistecca di Geko Ma vabbè Lui l'hanno messo Nel frigo Tipo il Il maggiordomo Di Lara Croft Ah Andiamo Eh raga Però così Le abilità Ma scusate Io lo devo far uscire Così davanti a tutti Ma guardatelo Allora Però Ok Abbiamo salvato Ted No Ma non mi convince Il discorso Di Cioè io li voglio In qualche modo Punire Non lo so se dirglielo Perché la voglio risolvere io Non fargliela risolvere a lui Il diavolo Non so proprio come io possa dormire Sapendo che chiunque abbia fatto questo È andato via Va bene Beh Ti avevo promesso Che ne sarebbe valsa la pena Quindi Ecco a te Prova a non perdere tutto insieme Nello stesso casino Va bene Allora a questo punto Allo yes man Cosa dico allo yes man Di ignorarli Di lasciarli stare Ma come Informa yes man Che hai sistemato Il problema del cannibalismo E la white society Sì insomma Sistemato il problema Del cannibalismo Per modo di dire Cioè l'ideale Sarebbe stato Fargliela pensare A Eck Ganderson Eh sì Ho salvato il ragazzo Però Che ne so Che non facciano Altre schifezze Beh Mi dispiace un po' Che siano ancora In circolazione Sì Ciao ancora La white glove society Aveva un problema Di cannibalismo Ma l'ho risolto Se per lui È risolvere Solo perché abbiamo Salvato un ragazzo Non lo so Per me Non è risolvere Un problema di cannibalismo Davvero Sono felice Che tu non sia stato mangiato Fuori uno Ancora quattro Più o meno Però diciamo Che il mio obiettivo In quanto Persona che ricerca L'indipendenza Di Vegas È quello di Far sì Che le società Con queste fazioni Con cui devo Per forza collaborare Perché sono là Non mi diano problemi Quindi ho risolto Diciamo Il problema Della white glove society Però In realtà no Allora Il discorso Dei omerta Io Omerta In realtà Li abbiamo solo conosciuti Possiamo un attimino Indagare meglio Sui omerta Mi sta sul cavolo Stavo se non sono riuscita A fare niente Dai omerta Per ora non gli dico Di ignorarli Magari vediamo Se riusciamo A concludere Cioè se magari Me la studio un attimo Perché non è possibile Ok facciamo la seguente Ragazzi Mi aspetta tantissimo viaggio Allora Ci vado Ci vado per i fatti miei E la prossima volta Partiamo direttamente Già Che sono dove C'è la confrata in acciaio Perché vi risparmio Tutta sta cosa Prima Oggi abbiamo girato Tre ore a vuoto Per sti cavolo Di omerta Quindi voglio risparmiare Tutta sta Macchinosità La prossima volta Vi informo Se riesco a fare qualcosa Con io merta Se no Dico che Di ignorarli E saremo direttamente Alla confraternità d'acciaio Così Siamo a posto E la Vi La prossima volta Sarà lunedì Quindi lunedì Alle 14 Riprenderemo direttamente Da lì Ok ragazzi Grazie mille Vi voglio bene Ciao Ciao Grazie a tutti.